L'unico merito che ho è di aver creduto a dicembre 2020, quando è uscito il bando di Anci, Fermenti in Comune, che Arezzo potesse primeggiare a livello nazionale con un progetto realizzato dai giovani della nostra città. Vedrete che sarà un ottimo prodotto che porterà Arezzo anche a essere vista e conosciuta da chi non la conosce, perché poi la serie tv a nove episodi saranno visibili da chiunque, perché sarà distribuita questa serie in una piattaforma di streaming a livello nazionale e internazionale, quindi non solo Fosca e Innocenti. Arezzo si trasforma nuovamente in un set cinematografico, questa volta per la serie tv thriller Rumors. Io sarò uno dei due registi e sono stato a capo della Writers' Room che ha scritto la sceneggiatura. Senti, allora, questo progetto quanto è importante e quante persone sono coinvolte? È molto importante per le vite di tutte le persone che si stanno coinvolgendo in questo progetto, siamo più di 400 tra cast, truppo e collaboratori vari e puntiamo a cambiare la città, prima di tutto anche le nostre vite, perché è un'opportunità enorme. Si tratta di una produzione indipendente, una serie tv partecipata con giovani protagonisti nell'ambito del progetto Oltre Camera. È costato tanto, soprattutto a livello di tempo. Noi l'abbiamo scritto tra dicembre e gennaio del 2020, dicembre 2020, gennaio 2021, che è notoriamente il periodo della sessione universitaria, quindi abbiamo davvero investito tutto il nostro tempo libero nella scrittura di questo progetto e tuttora continua questa cosa, perché comunque la fascia è di studenti delle scuole superiori, delle università e quindi tutto il nostro tempo va in questo progetto, perché comunque ci crediamo, sappiamo che porterà qualcosa di bellissimo, rinnoverà la nostra città e quindi vale tutto questo tempo speso. Oltre Camera ha partecipato al bando Anci, Fermenti in Comune e ha ottenuto 120.000 euro, quale cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Rumors in inglese significa una voce di corridoio, ecco, questa forse è la traduzione più esatta, e diciamo che questa serie racconta un po' forse di qualche voce di corridoio ad Arezzo, sarà un teen drama con sfumature thriller, nove episodi da 30 minuti ciascuno, girati interamente ad Arezzo con 400 ragazzi e ragazzi, dai 15 ai 25-30 anni, quindi siamo super felici di partecipare a fare questo progetto. La piattaforma di distribuzione resta al momento Top Secret, il primo ciac della serie è in programma per domenica 3 aprile. Siete gli attori voi? Sì, sì, ci hanno detto così, siamo i tre attori protagonisti. Tommaso, Valentina, Gaia. Non possiamo parlare perché ve la faremo vedere, sarà tutto quanto una sorpresa, ma c'è da aspettarsi tanto, di tutto, c'è da aspettarsi veramente di tutto.